Una nuova pagina di storia è stata scritta in Casimolese. La penna rosso-blu guidata dalla mano dell'allenatore Alessio Dionisi ha registrato i grifoni allo storico terzo posto in Serie C, frutto di 62 punti grazie a 15 successi, 6 sconfitte e 17 pareggi, ultimo dei quali raggiunto raddrizzando la gara in casa della Ravenna. La partita di oggi è stata particolare, nel senso che abbiamo fatto tutto il contrario di tutto, e però è positiva perché alla fine abbiamo portato a casa il risultato e l'obiettivo, soprattutto collegati con Salò, che bisognava, chiaramente i nostri risultati erano collegati a loro, abbiamo centrati nel terzo posto, quindi siamo estremamente soddisfatti. Il biglietto per il viaggio che potrebbe terminare nell'oasi paradisiaca della Serie B è stato obliterato, ma il treno romagnolo non vuole rallentare proprio ora. Infortunatamente centrando questo obiettivo possiamo saltare due turni, quindi dobbiamo recuperare le forze, dobbiamo recuperare gli infortunati e concentrarci su un obiettivo che è qualcosa di inimmaginabile. Festeggiare qualcosa di storico sarebbe poco intelligente, quindi bisogna continuare a fare andare il treno sui binari cui l'abbiamo messo.